cerca teleeuropa sul tuo play store o apple store e scarica la nostra app teleeuropa network ti segue ovunque disponibile per tutti gli utenti android e apple ti aspettiamo ben ritrovati per direttamente oggi una puntata diversa dalla solito perché non sono gli ospiti ad arrivare in studio ma è direttamente che arriva nei luoghi dove le cose accadono ci è piaciuto sottoporre alla vostra attenzione un rapporto sull'economia del sud e quindi anche della calabria il rapporto si chiama finanziare la ripresa è stato presentato proprio questa mattina nella sede di un'industria cosenza alla presenza di tanti addetti del settore quindi di imprenditori ma c'erano i sindacati c'erano gli economisti dell'università della calabria c'era la politica in particolare il presidente della regione Mario Oliverio perché l'idea è quella di accompagnare lo sviluppo di questa terra tutti insieme ognuno con il proprio ruolo ognuno per la propria parte per arrivare però insieme compatti all'obiettivo che è quello di rilanciare l'economia della calabria i segnali di ripresa ci sono o no partiamo dal mezzogiorno cosa dice lo studio lo studio dice che il sud è in ripresa che è cresciuto in questi ultimi anni che fuori dalla crisi che l'ha investita pesantemente la crisi che non abbiamo dimenticato del 2008 dopo dieci anni c'è un sud che cresce e si dice nel rapporto di Confindustria Cerved anche più velocemente del resto dell'Italia i dati infatti dicono che nel 2016 nel mezzogiorno si registra un più 4,1% contro il più 3,6% del resto dell'Italia quindi questi segnali sono importanti il campione preso in esame dallo studio è costituito da 26.000 aziende 26.000 aziende con un fatturato di oltre 130 miliardi di euro un valore aggiunto di quasi 30 miliardi di euro da sole sottolineano appunto gli economisti che hanno redatto il rapporto valgono poco meno del 10% del PIL meridionale quindi il dato è davvero significativo e l'idea di ricominciare, di ricostruire, di frenare l'emigrazione soprattutto del lavoro ha dato vigoria proprio ai lavori, si respirava questo clima di fiducia stamattina nella industria di Cosenza per capire insieme i numeri ma anche le dinamiche dell'economia e poi come rafforzare perché adesso c'è la sfida che è quella di far sì che questi segnali diventino stabili e quindi di irrobustire il tessuto economico ed imprenditoriale dell'intero sud Italia allora cominciamo a capire bene i dati e poi che cosa leggere i numeri in modo corretto lo facciamo insieme ad Andrea Montanino direttore del centro studi di Confindustria sentiamolo Andrea Montanino che è direttore del centro studi di Confindustria un rapporto importante perché c'è un campione significativo di 26.000 imprese da cosa emerge questa ripresa nel sud? Quali sono gli indicatori che ci dicono che si è invocata la strada giusta? Guardi questo è un campione importante perché parliamo di imprese di capitali quindi imprese strutturate di una dimensione tra 10 e 250 addetti che sono in qualche modo il cuore dell'economia italiana non solo calabrese sono le aziende che possono creare occupazione perché hanno già una struttura e possono anche aprirsi a nuovi mercati il rapporto mostra una Calabria e un sud reattivo questo è molto importante è un sud che sta capendo che ci sono opportunità e si sta iniziando a muovere a muovere anche nel mondo è interessante vedere che negli ultimi due anni l'economia meridionale ha contribuito per un terzo alla crescita del PIL nazionale mentre rappresenta poco meno di un quarto quindi cresce più in qualche modo più del nord esportano le imprese meridionali esportano esportano e hanno fatto crescere l'export anche nel periodo in cui la domanda mondiale calava quindi c'è sicuramente una parte di sud molto dinamica e questo è anche dovuto al fatto che ormai i mercati sono globali si può essere in qualunque posto del mondo e si possono occupare spazi nei mercati globali il sud non è più decentrato perché l'e-commerce, la nuova finanza lo stesso mercato unico europeo sono tutti strumenti che permettono di andare del mondo da qualunque posto uno si trovi Nonostante le infrastrutture carenze? Le infrastrutture sono un tema sono un tema perché è ovvio che uno può avere un ottimo prodotto può aver trovato il cliente dall'altra parte del mondo ma poi bisogna fargli arrivare il prodotto quindi se io dovessi dare un suggerimento alla politica meridionale direi usate molto bene gli strumenti, i fondi di coesione per un grande piano infrastrutturale bisogna fare in modo che il prodotto che arriva dall'est si fermi nei porti del sud Italia e non vada invece a Rotterdam per poi occupare i mercati europei e quindi serve un'infrastruttura molto efficace che permetta a queste merci di andare al centro dell'Europa rapidamente e servono infrastrutture per portare le merci meridionali dovunque nel mondo Per quanto riguarda invece la strutturazione cioè far diventare questa ripresa ricchezza stabile ricchezza del territorio come si fa? Le imprese sono pronte? Hanno gli strumenti? Le imprese ovviamente un'impresa è diversa dall'altra è molto dipendente dagli imprenditori e dai loro dipendenti e dalla voglia che hanno di rischiare anche questa è una fase in cui bisogna prendersi dei rischi perché le opportunità ci sono se si rimane seduti sul proprio piccolo mercato locale purtroppo non si andrà a nessuna parte però poi si verrà sconfitti se si ha il coraggio di portare lontano le proprie idee, i propri prodotti allora si avrà successo io investirei molto in capitale umano il Mezzogiorno per fortuna ha un ottimo capitale umano bisogna trattenere i giovani farli lavorare nelle aziende meridionali però fargli capire che c'è una bella opportunità nel farlo e non è soltanto come dire tirare a campare Gli imprenditori hanno bisogno anche di una rete che li supporti nell'individuare anche le opportunità giuste quindi i finanziamenti giusti è anche una politica industriale che non sia fuoriera di improvvisazione come invece è stato per tanto tempo? Io direi che gli imprenditori hanno bisogno sicuramente di fare rete di mettersi insieme di mettere da parte quegli steccati e quelle gelosie che spesso ci sono e capire che mettendosi insieme e Confindustria in questo aiuta e può aiutare possono fare il salto possono trovare nuove opportunità quindi anche qui un consiglio agli imprenditori del mezzogiorno è fate rete associatevi mettetevi insieme per penetrare nuovi mercati Ultima domanda alla ZES se ne è tanto parlato ieri è stato presentato questo piano strategico si parla di 15.000 posti di lavoro nuovi per la Calabria le imprese in tutto questo come possono interagire per rilanciare il territorio? Il lavoro non lo creano le politiche pubbliche il lavoro lo creano le imprese e i lavoratori ci possono essere strumenti che aiutano io quando sento numeri di posti di lavoro futuribili sono sempre un po' scettico perché poi dipende come si comporteranno gli operatori economici la ZES può essere un'opportunità ovviamente di attrazione ma poi bisogna essere in grado di attrarre non bastano questi strumenti C'è molto entusiasmo lo dicevamo per questi dati quasi a sorpresa che sono venuti fuori dal rapporto finanziario e la ripresa lo ricordo questa presentazione del rapporto delle piccole e medie imprese del mezzogiorno questo rapporto datato 2018 che è stato redatto da Confindustria e Cerved la Cerved tra l'altro è un'azienda calabrese e ci fa piacere sottolinearlo come vista l'altra domanda che ci siamo posti e che abbiamo poi girato ai nostri interlocutori come visto il sud dal nord e in particolare la Calabria cosa manca alla nostra regione e al sud per essere al pari delle regioni del nord un triestino che è Stefan Pan che è vicepresidente per le politiche regionali e coesione territoriale di Confindustria ai nostri microfoni ha detto che intanto è il sud il vero treno della ripresa del paese e poi ha detto anche un ulteriore ha dato un ulteriore elemento di riflessione cioè ha detto c'è un racconto sbagliato del sud e della Calabria va cambiato il modo di narrare l'economia di questa terra sentiamolo Stefano Pan vicepresidente per le politiche regionali e coesione territoriale territoriale di Confindustria da nord uno sguardo sul sud come ci guardate e soprattutto ci sono davvero questi segnali di ripresa o ancora c'è tanta strada da fare? Ci sono dei segnali di ripresa molto concreti ci sono dei segnali di ripresa che fanno sperare e che fanno vedere che gli imprenditori del mezzogiorno ci mettono il cuore il cuore delle imprese che fanno crescere il paese sta qui nello studio che presentiamo oggi si vede che queste imprese che sono più strutturate che hanno dai 10 ai 250 dipendenti sono quelle che crescono più delle altre che capiscono che la sfida è mondiale che dal mezzogiorno si può affrontare il mondo il mezzogiorno che diventa traino non solo per il mezzogiorno ma proprio di tutto il paese visto dal nord è un'opportunità che per me è personale di scoprire tutte queste eccellenze che ci sono al sud che bisogna raccontare molto di più che bisogna non solo in Italia ma in Europa è una cosa particolarmente accattivante quando a Bruxelles spiego la ragione della politica della coesione che serve proprio per spiegare ed è facile farlo facendo esempi di eccellenze che nessuno avrebbe immaginato e questo è il problema nessuno se lo immagina dobbiamo arrivare a un nuovo racconto in cui nell'immaginario del mezzogiorno c'è l'eccellenza che c'è in cui si svela si toglie il velo dalle opportunità incredibili che ci sono della volontà di crescere e la sfida grande è che la vitalità che c'è abbiamo se pensiamo ci sono 37.000 nuove imprese che sono nate nell'ultimo anno ma sono ancora troppo piccole fare vedere che se ci si mette insieme si può crescere si farete è più facile partire più un viaggio in gruppo da soli magari attraversare il mare è un'opera difficile ma insieme si può fare e il mezzogiorno che è così ricco di eccellenze deve essere e può diventare apripista per uno sviluppo dell'Italia di tutto il paese che molti ancora forse non si aspettano però che riusciremo a far vedere tutti i dati compreso l'Istat insomma ci raccontano di un'Italia a due velocità allora come riuscire a far sì che si viaggi tutti sullo stesso binario ci sono delle imprese del mezzogiorno che vanno a una terza velocità quella che è più veloce di tutti gli altri e se è possibile per queste dobbiamo ampliare il bacino di queste imprese che riescono a farlo raccontarlo facendo toccare per mano che le soluzioni ci sono e che le disegualianze che ci sono si combattono con l'impresa l'impresa è il fondamento sulla quale poi possono costruire i servizi ma una società post-industriale senza uno zoccolo forte industriale non ha la capacità di sopravvivere quindi una società che include una società che rassicura una società che cresce è quello che è il presupposto delle nostre aziende che sono le imprese che sono il fattore il driver per il futuro sostenibile del nostro paese parliamo di occupazione in questi dati in queste aziende che voi avete preso in esame il segno più tradotto in numeri quanti sono i nuovi occupati stiamo recuperando nel periodo della crisi nel mezzogiorno abbiamo perso 600.000 posti di lavoro ne abbiamo recuperati 400.000 più di 400.000 e questo è il percorso che devono continuare a farlo per farlo abbiamo bisogno di imprese non sono leggi che creano posti di lavoro ma sono le imprese che crescono che ispirano fiducia e che raccontano una nuova storia l'industria non è più quella di una volta che abbiamo sempre in questo immaginario con le ciminiere e col fumo nero le imprese di oggi sono luoghi di intelligenza applicata e che hanno un bisogno di giovani preparati competenza e competitività sono un binomio che va insieme e dove i giovani specialmente del mezzogiorno hanno dato la dimostrazione di essere preparati e quindi se cresciamo non devono più andare all'estero sempre bene girare però le opportunità dobbiamo crearle qui più di prima e si può fare La Calabria la nostra terra è al pari delle altre regioni del sud lo diciamo subito per non creare troppe illusioni purtroppo no i segnali sono davvero timidi però ci sono la Calabria non ha superato del tutto la crisi ma si sta sforzando con tutte le proprie forze ancora non ha agganciato la ripresa che invece interessa le altre regioni del sud timidi segnali che però hanno bisogno di essere alimentati per far sì che la spinta anche in questa terra sia concreta sentiamo il presidente di un'industria Calabria Natale Mazzuca Natale Mazzuca presidente di un'industria Calabria la Calabria in questo contesto di ripresa del sud quali segnali invia? sono positivi? le imprese che sono nate quante sono? ma i segnali che invia la Calabria sono moderatamente positivi sono dei segnali che ci fanno intravedere che c'è un'inversione di tendenza in alto sicuramente il saldo imprenditoriale tra le imprese gestate e quelle nate è un saldo positivo però abbiamo davanti ancora tanta strada da fare anche alla luce delle emergenze che abbiamo sia dal punto di vista imprenditoriale ma soprattutto dal punto di vista del lavoro perché poi il tema fondamentale della nostra regione è il lavoro e la crescita guardo in maniera diciamo cauta quello che può essere il prossimo futuro alla luce anche di una serie di programmazioni di risorse che abbiamo ma chiediamo in maniera forte che vengano scaricati immediatamente sui territori perché solo in questo modo può nascere un circuito virtuoso e quindi far crescere la regione ed uscire dal pantano in cui in questo momento si trova la ripresa quanti posti di lavoro in più fa contare in Calabria? ma la ripresa sicuramente è ancora la disoccupazione ha dei numeri molto alti pensiamo che la disoccupazione in Calabria è vicino al 22% ci sono dei settori che hanno assunto che hanno occupato penso all'agroalimentare parte in maniera anche molto molto limitata il settore delle costruzioni però ancora di vera e propria ripresa dell'occupazione non ne possiamo parlare e devo dire che è essenziale e fondamentale in questo momento la velocità la velocità dell'azione delle procedure diventa un fattore intangibile della ripresa e quindi dello sviluppo economico le aziende su cosa devono accelerare o comunque come possono essere aiutate a fare questo ulteriore salto di qualità dopo il sacrificio della crisi superata come si può affrontare questi timidi segnali come dire cementare e costruire su questo guardi dopo la resilienza la resistenza sta partendo dalla reazione del nostro sistema delle imprese stanno facendo tanto devo dire che noi ultimamente abbiamo anche costituito il digital per l'innovazione dove sono presenti le tre università la regione Calabria con venduta digitale perché le nostre imprese devono fare anche un salto innovativo bisogna prepararsi per andare sui mercati perché la competizione non nasce più dal costo del prodotto ma nasce necessariamente dalla qualità del prodotto ci sono molto consumatori che possono acquistare quindi gli imprenditori che devo dire sono molto aperti a questa nuova visione stanno facendo sacrifici però è fondamentale anche che dall'altra parte ci sia una pubblica amministrazione più efficiente più efficace e collaborativa col sistema e che possa quindi far partire attuare tutte quelle programmazioni e quelle risorse che sono necessarie perché con gli investimenti pubblici sicuramente ripartono gli investimenti privati basta guardare anche il credito d'imposto che ha dato risposte molto importante nel mezzogiorno e questo attiva il circuito virtuoso dell'economia e poi c'erano altri osservatori per capire le dinamiche per capire veramente come si può uscire dal pantano di una crisi che è certo la grande depressione cominciata dal 2008 ha acuito ma che in Calabria insomma non è mai completamente stata superata la Calabria è da sempre una terra povera è da sempre una terra che guarda come un miraggio allo sviluppo gli economisti dell'università della Calabria e anche il rapporto tra le imprese e l'università può aiutare a invertire la tendenza e come lo abbiamo chiesto a Domenico Cersosimo che è docente lui è stato anche assessore regionale un economista il quale ci ha dato anche un elemento su cui riflettere cioè il mondo è cambiato le imprese sono cambiate c'è sempre bisogno di preparazione di giovani che sappiano parlare molte lingue che sappiano utilizzare le nuove tecnologie perché lo sviluppo passa da qui sentiamolo professore Cersosimo allora lei è un economista come legge i dati della ripresa e questo studio che oggi viene presentato in assieme è una ripresa lenta lenta e selettiva così come la crisi è stata selettiva ha interessato alcune imprese molte imprese e poche imprese che invece sono andate benissimo sono andate bene soprattutto le imprese che esportano le imprese che dotate sotto il profilo cognitivo le imprese strutturate mentre sono andate molto male le imprese marginali le imprese che erano più in difficoltà e quindi soprattutto sul mercato locale hanno una grossa scrematura di imprese così come la crisi anche la ripresa è selettiva non vanno bene tutte le imprese però le imprese cominciano a andare meglio e vanno anche anche in questo caso meglio le imprese che si mettono in rete che cooperano tra di loro che semmai hanno contatti con centri di ricerca con università per trasferire conoscenze e competenze nuove vanno meglio le imprese che assumono giovani lavoratori laureati dottori di ricerca perché quando entra un giovane laureato dottori di ricerca in azienda arriva un'altra energia arrivano le lingue arrivano le capacità la proiezione internazionale l'abitudine di agio e dunque anche l'impresa viene un po' trascinata in un circuito più ampio e quando più ampio il circuito dei mercati tanto più le imprese vanno meglio per quanto riguarda la Calabria questo sforzo si sta facendo lei lo vede? beh sì c'è uno sforzo è apprezzabile naturalmente però la Calabria ha una tara strutturale straordinaria è una società molto debole è una struttura produttiva molto frammentata molto esile la trama anzi sia ancora di più allargata rispetto a prima si è lisa quella stoffa quei tessuti quindi ci vorrebbero delle politiche con un sarto cunce piano piano con una prospettiva di medio e lungo periodo lo sviluppo non è neanche di domani mattina vedo che si stanno facendo molti sforzi molti tentativi molti bonus molti interventi però spesso la quantità di interventi non fa una politica c'è bisogno di un'idea ancora più robusta più chiara manca ancora diciamo un'idea di sviluppo e tutti i provvedimenti dovrebbero essere collegati a queste idee di sviluppo invece vedo che in generale sia nelle politiche nazionali e in parte anche quelle regionali si fa una politica degli interventi che si sovrappongono ad altri interventi ma poi il risultato se non c'è un'idea strategica unica i risultati saranno modesti un'ultima domanda il ruolo dell'università è importante l'università è un attore un player come si dice adesso è importante è importante perché non sia chiusa ecco è tentativo alcune volte l'università di chiudersi in se stesso di avere insomma avere una sorta di sindrome dei tartari di arroccarsi nella propria nuvola accademica e quello è pericolosissimo fortunatamente le nostre università in particolare l'università nella quale lavoro l'unica è una università molto aperta ci prova però con tutti i defici strutturali perché la sensibilità delle imprese nei confronti della ricerca dell'accademia del capitolo umano è elevato avviene a un certo livello a una certa dimensione purtroppo noi abbiamo tutte nano imprese micro imprese imprese molto piccole dunque hanno delle barriere all'ingresso a quel capitale cognitivo e conosciuto l'università allora è difficile far crescere le imprese è un'impresa piccola tende a essere piccola tutta la dita allora si potrebbe ovviare questa diseconomia diciamo di imprese attraverso un'aggregazione dell'impresa attraverso una cooperazione più imprese che fanno rete si mettono insieme è più facile avere un rapporto con l'università quindi abbiamo da un lato un'università che si deve aprire di più e far prodotti di ricerca più sensibili alla domanda delle imprese e dell'altro le imprese visti i loro in cluster in filiere in distrette per poter catturare i benefici dell'università è un processo difficile ma dobbiamo farlo ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app Tele Europa Network ti segue ovunque disponibile per tutti gli utenti Android e Apple ti aspettiamo seconda parte di direttamente ve lo ricordo ci stiamo occupando di economia in particolare di questo rapporto che è stato presentato stamattina a Cosenza finanziare la ripresa si chiama uno studio che dice che il sud veramente riesce a crescere ancora più del nord quindi che è fuori dal tunnel della crisi la Calabria è ancora un po' indietro e ha bisogno di una spinta ulteriore stamattina stamattina all'incontro era presente il governatore della Calabria Mario Oliverio con lui abbiamo fatto un ragionamento non solo sui dati lui ha detto ci sono grandi opportunità e noi ci stiamo ragionando ma ci stiamo proprio attivando affinché tutte le opportunità come i buandi del por e altre misure previste e in atto possono essere fruibili da parte degli imprenditori e poi ci ho detto anche un'altra cosa perché quello che viene fuori dalle imprese dai bisogni delle imprese è quello di uno snellimento della burocrazia ma sentiamo il Presidente Oliverio Finanziare la ripresa uno studio su 26 mila imprese del sud dice che cominciamo ad uscire dalla crisi le politiche e la politica aiuteranno le imprese come? Io credo che stanno aiutando le imprese ci sono segni di ripresa sia pure timidi dopo un lungo periodo di 10 anni di difficoltà di crisi profonde basti pensare alla nostra regione nel periodo 2007-2014 ha perso 14 punti di PIL la disoccupazione appunto ha toccato punte mai viste prima anche se comunque è stato un dato strutturale tuttavia ora ci sono segnali di inversione di tendenza del trend sono segnali positivi importanti noi stiamo lavorando per sostenere questi segnali attraverso politiche mirate al sostegno delle imprese al modernamento infrastrutturale alla creazione di opportunità di opportunità di lavoro i processi appunto hanno i loro tempi tuttavia appunto si è imboccata la strada giusta bisogna sostenere appunto questo processo che si è invertito positivamente farlo attraverso le politiche comunitarie attraverso grandi programmi di ammodernamento infrastrutturale proprio ieri abbiamo presentato a Giulia Tauro la ZES la zona economica speciale che è uno strumento di formidabile importanza lo presenteremo anche a Corignano questa sera abbiamo definito anche la proposta delle aree di crisi la 181 che consentirà alla piccola e media impresa di avere agevolazioni fiscali semplificazioni nelle procedure abbiamo concentrato risorse in questa direzione stiamo lavorando perché le risorse pubbliche possano sostenere questo processo di ripresa di crescita e di opportunità di lavoro sono appunto i primi segni di una inversione di tendenza questo non ci deve far dimenticare che ancora abbiamo come dire dati alti significativi importanti per quanto riguarda la disoccupazione che è elevatissima per quanto riguarda la condizione di sofferenza sociale verso la quale stiamo lavorando per destinare risorse per quanto riguarda il contrasto alla povertà è una situazione grave quella che si è determinata nel corso degli anni che abbiamo alle spalle e oggi siamo impegnati proprio in prima linea nella frontiera del recupero e dell'apertura di una fase nuova come si combatte la lentezza della burocrazia perché molti imprenditori si trovano di fronte a questo ostacolo un muro che non riescono a valicare a superare questo è un dato strutturale del nostro paese io credo che proprio su questo ancora c'è molto da fare perché su questo si vince la sfida dello sviluppo nel sud poi è più accentuata questa malattia io credo che si affronti attraverso la semplificazione una riforma radicale appunto relativa alle procedure alla burocrazia perché meno burocrazia significa più sviluppo più possibilità di espressione delle risorse delle potenzialità che appunto sia il sistema delle imprese che i cittadini possono esprimere chiaramente gli occupati in Calabria sono aumentati rispetto a qualche anno fa perché il tema vero poi è il lavoro ben quasi 400 mila posti di lavoro sono andati perduti in tutto il sud quanto si è recuperato in questi in questa ripresa in questi mesi in cui si è lavorato molto noi abbiamo girato questa domanda a Sarino Brand e proprio sui temi dell'occupazione viene fuori la fragilità che ancora ha la nostra terra e viene fuori anche la possibilità che il riscatto debba passare necessariamente attraverso politiche attive attraverso la sinergia che è una sinergia di imprese istituzioni sindacato sentiamolo dottore Brand direttore della industria di Cosenza quali sono i segnali di ripresa in Calabria e soprattutto come fare perché diventino stabili e creino sviluppo i segnali di ripresa sono in Calabria così come nel resto del Mezzogiorno come avete visto dai dati c'è una ripresa degli investimenti c'è una ripresa della produttività delle aziende soprattutto nel settore industriale il problema è che ancora c'è l'inversione di tendenza ma in valore assoluto non siamo a grandissimi numeri il Mezzogiorno va un po' meglio della Calabria però i segnali importanti per la Calabria sono il numero di imprese che hanno risposto ai primi bandi che sono stati pubblicati sul POR penso in particolare al ricerca e sviluppo ma soprattutto agli investimenti in pianti e macchinari che hanno ricevuto tante di quelle domande che sono la testimonianza che le imprese hanno voglia di tornare di tornare a rinvestire quindi questo credo che sia il segnale il segnale migliore Per quanto riguarda invece l'occupazione ci sono dati in controtendenza? C'è qualche dato in controtendenza però diciamo sono per la prima volta tutti gli indicatori tutti i macro indicatori sono con segno positivo il problema è che noi veniamo fuori da una crisi lunghissima che ci ha distrutto in particolare se guardiamo il dato dell'occupazione il tasso della disoccupazione calabrese è doppio rispetto a quello nazionale quindi questo è un dato che non può soddisfare nessuno ma d'altra parte se la crescita non comincia ad essere significativa se non cominciamo a pensare almeno a un più 2 più 3% di crescita è difficile dare nuova occupazione stabile i segnali ci sono si tratta di irrobustirli ci sono anche gli strumenti però gli strumenti vanno ancorché ben programmati vanno attuati quindi il 2018 è il primo anno della rendicontazione del POR il primo step diciamo per le regioni e quindi anche per la Calabria e credo che questo potrebbe essere un'iniezione di fiducia perché poi i cittadini le imprese hanno bisogno di un clima di fiducia per investire e anche i giovani se no assisteremo alla fuga di quelli più bravi quelli che potrebbero aiutare questa regione a crescere vanno fuori perché trovano opportunità di lavoro e quelli che restano invece non riescono perché il tessuto è quello che è invece dobbiamo provare ad invertire questa tendenza e qui bisogna fare ognuno deve fare la sua parte non abbiamo tutti lo stesso grado di responsabilità chi governa sicuramente ha maggiori responsabilità però ognuno deve fare la sua parte allora penso che nel giro di qualche anno ce la possiamo fare i segnali ci sono ma vanno irrobustiti vanno resi stabili vanno resi strutturali come diceva lei e per quanto riguarda invece il credito c'è stata fino a poco tempo fa una chiusura gli imprenditori avevano difficoltà all'accesso al credito è cambiato anche questo c'è il segnale di una ripresa anche in quest'ambito? allora i dati della ricerca di oggi guardando all'universo mezzogiorno parlano di imprese più credibili quindi è aumentato il credito perché le imprese sono credibili si sono rafforzate sono meglio patrimonializzate sono tornate ad investire ovviamente un poco poco in meno in Calabria è aumentato il grado dell'indebitamento delle aziende quindi questo vuol dire che si è ridotto un poco il credit crunch ma ancora non basta proprio perché questa è una regione che ha bisogno di una spinta per partire per partire ci vuole lo spunto lo spunto della partenza il credito probabilmente da noi deve fare qualche cosa di più aiuta gli imprenditori debbano fare la loro parte investendo innovando però hanno necessità di essere aiutati anche e soprattutto dal mondo del credito quindi qualcosina sta cambiando però anche lì bisogna fare un po' di più il vice presidente nazionale di compindustria diceva che la Calabria deve raccontarsi di più deve raccontarsi meglio perché si inceppa il racconto come non sappiamo raccontare perché noi abbiamo cito una cosa l'altra sera in una conversazione con l'università della terza età noi abbiamo un proverbio dialettale che dice che il lamentare giova questa cosa funzionava in un'economia rurale quando la gente aveva paura che il vicino gli potesse portare male se le cose vanno bene il vicino ti potesse portare piccio come si dice visto che siamo a Trento ha citato il presidente Pann e questo andava bene l'economia rurale ma nell'economia globalizzata quando si deve ragionare in termini di marketing territoriale ma se io mi lamento pur non avendo ragione pur non avendo motivi perché mai un imprenditore dovrebbe venire ad investire in Calabria perché dovrebbero venire in Calabria se noi la dipingiamo con i colori più negativi che possiamo questo dice il presidente Pann che è stato qui da ieri pomeriggio io ho visto delle cose straordinarie gli abbiamo raccontato la storia quello che c'è dietro dice ma voi non vi sapete raccontare perché visti da lontano sembrate un'altra cosa quindi diciamo quello che deve cambiare secondo me è anche questo passare da questa dalla lamentazione pensando che la lamentazione possa portare a qualcosa invece a un atteggiamento proattivo che è di questa di questa società di questi tempi di chi fa marketing territoriale funziona non dico che dobbiamo vendere le cose che non abbiamo ma almeno raccontare bene quelle che abbiamo ve lo abbiamo anticipato a questo incontro erano presenti anche molti imprenditori allora dopo aver sentito gli economisti dopo aver sentito gli osservatori esterni dopo aver sentito la politica abbiamo voluto chiedere loro se percepiscono questi segnali di ripresa rispetto al nostro territorio ebbene abbiamo sentito Cristina Gazzaruso lei è un'operatrice turistica un'imprenditrice turistica la quale dice sì nei numeri effettivamente qualcosa è cambiato perché i turisti arrivano nella nostra regione il problema poi i problemi anzi poi sono altri le infrastrutture i servizi insomma c'è un incremento di presenze però da qui a dare veramente dei servizi ai turisti insomma ce ne corre e quindi non siamo pronti quindi c'è qualche luce ma ancora tante ombre da dissipare sentiamola Cristina Gazzaruso lei è un'imprenditrice nel settore turistico allora lei questi segnali di ripresa di cui si parla nel rapporto li ha toccati con mano o no? Allora possiamo dire che una leggera ripresa sicuramente c'è stata ma a mio avviso è una ripresa che è dovuta ad una maggiore attrattività che è nel territorio soprattutto per quanto riguarda credo la città di Cosenza quindi non avendo comunque Cosenza grossi punti di riferimento per quanto riguarda le strutture ricettive sul Rende sicuramente si sta lavorando di più ma credo che ci sia veramente ancora tanto da fare perché abbiamo dei problemi notevoli sia per quanto riguarda le infrastrutture mi riferisco soprattutto ai trasporti alla viabilità e a tutte le varie problematiche che ormai si conoscono da sempre sul territorio sul nostro territorio sui nostri territori quindi si potrebbe fare veramente tanto anche perché per coinvolgere quello che il cliente cosiddetto leisure quindi che viene qui in Cosenza e provincia diciamo dovrebbe esserci una destinazione turistica ben definita e questo a tutt'oggi noi qui non l'abbiamo perché il cliente che viene qui a Rende vuole raggiungere poi dico per dire il centro storico non ha i mezzi per poterci arrivare quindi non ci sono quegli strumenti ecco necessari affinché il cliente poi possa il turista possa muoversi con tranquillità da una parte all'altra e visitare tutto quello che noi di bello abbiamo infine la voce del sindacato che ha guardato con particolare attenzione ai numeri del rapporto ebbene il sindacato è cosciente che ci sono ancora troppe vertenze aperte è cosciente che ancora tante risposte mancano certo non vuole avere un ruolo di guastafesta i segnali timidissimi di ripresa è capace di coglierli ma in coro con gli imprenditori e con chi comincia a lavorare chiede lavoro stabile perché poi è dal lavoro dall'ossatura del lavoro occupazionale che si comprende anche la ricchezza di una regione e allora quale politica e quali politiche possono far raggiungere a questo obiettivo sentite cosa dice Paolo Tramonti il segretario regionale della CISL Paolo Tramonti questo studio sostanzialmente dice che la ripresa c'è nel mezzogiorno è in Calabria il sindacato vede gli stessi indicatori ma indubbiamente il 2017 ha segnato sicuramente un'inversione di tendenza quindi finalmente si incomincia a registrare qualche segno più dopo tanti anni dopo un decennio in cui l'economia calabrese tutta quella del mezzogiorno è pericolosamente arretrata ora si tratta di rendere strutturale questa ripresa di rafforzarla di rendere più competitive le nostre imprese che ricordiamolo soprattutto in Calabria sono di piccole e medie dimensioni credo che ci sono tutte le condizioni secondo noi perché si possa veramente consolidare la ripresa in atto e soprattutto incidere veramente poi nel tessuto economico sociale e occupazionale della nostra della nostra regione la Calabria ha davanti a sé un quadro di opportunità molto importante dal ciclo di programmazione comunitaria 2014 2020 dal patto per la Calabria il patto per l'area metropolitana di Reggio Calabria il capitolo infrastrutture diciamo che ci sono a disposizione risorse notevoli ora si tratta di renderle spendibili attorno a progetti veri seri e credibili e su questo mettere in campo un vero e proprio patto per il lavoro e l'economia in questa regione che noi stiamo chiedendo e sollecitando da tempo voi avete spesso contatti con imprenditori per le vertenze e quindi riuscite a guardare la doppia realtà quella la difficoltà imprenditoriale la difficoltà invece di chi perde il posto di lavoro allora come riuscire a superare entrambe queste difficoltà e incamminarsi in un cammino che non può essere quello di chiudere aziende e di far sì che i lavoratori vadano all'estero no la Calabria tra i gap che deve colmare deve sicuramente colmare quello di essere finora non essere riuscita a fare sistema la Calabria deve fare sistema deve fare rete e questo riguarda il mondo delle imprese riguarda le parti sociali le forze le forze sindacali dobbiamo fare in modo che pur nel rispetto dei reciproci ruoli si remi tutti nella stessa direzione perché la Calabria è una regione che pur tra tante difficoltà come si diceva ha fortissime potenzialità e opportunità quindi se si lavora in sinergia secondo me i risultati possono sicuramente arrivare vorrei ricordare a questo proposito che nel 2015 insieme a Confindustria Calabria e CGL Cisleguil appunto regionali abbiamo messo in cambio un po' una proposta comune su alcuni temi dal lavoro alla crescita al sociale e alla legalità che abbiamo offerto anche alle istituzioni e alla politica affinché su questo si accendesse un dibattito ora diciamo sia pure con tanta difficoltà diciamo che è ripreso un confronto anche con il governo regionale e noi auspichiamo che su questo si acceleri perché ripeto se riusciamo a fare squadra riusciamo a fare rete secondo noi la Calabria ce la può fare si parla ancora di concertazione o è un concetto più solente al di là dei termini quello di cui la Calabria ha bisogno o meglio di quello di cui la Calabria non ha bisogno è quello di rinchiudersi in se stessi noi pensiamo che tutte le componenti appunto economiche sociali imprenditoriali nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie autonomie debbano dare un contributo fattivo per dare a questa nostra regione opportunità la prima opportunità su cui tutti dobbiamo mirare e lavorare è il lavoro è inaccettabile questa fuga di giovani che costantemente lasciano la nostra regione dopo aver completato gli studi sia diciamo di scuola e quelli universitari per andare a cercare un futuro professionale altrove così come quest'area di precariato enorme il lavoro nero e sommerso i tanti lavoratori che in questi anni per effetto della crisi sono stati collocati negli ammortizzatori sociali e che oggi sono pressoché privi di qualsiasi tipo di paracadute appunto sociale lavorativo e occupazionale quindi su queste basi io credo che questa sia la priorità noi stiamo sollecitando come CISL appunto il varo immediato perché non c'è più tempo da perdere di un piano per il lavoro e per l'occupazione che guardi a queste cose alla nuova occupazione alla stabilizzazione precariata al contrasto del lavoro nero e sommerso all'accompagnamento anche attraverso percorsi di formazione appunto ai lavoratori che sono usciti fuori usciti dal mercato del lavoro dicevo percorsi di formazione utili per il reinserimento lavorativo è chiaro che alla base di tutto questo c'è appunto quello di cui si discute oggi il consolidamento della ripresa economica noi riteniamo che ci sono anche su questo come si diceva presupposti positivi e si tratta adesso di rendere veramente forte strutturale questa diciamo questo accenno di ripresa che c'è perché ricordiamolo anche i numeri per quanto possano essere leggermente positivi vanno ad impattare poi in una realtà che vede la nostra regione accusare e accumulare un ritardo troppo grande rispetto alle regioni del nord del centro nord quindi è chiaro che questi sono comunque numeri piccoli c'è la volontà però da parte di tutti e appunto noi stiamo lavorando anche in forte sinergia anche con Confindustria Calabria perché siamo convinti che ci sono le condizioni per fare squadra per fare rete e per fare bene diciamo e dare prospettive per quello diciamo che sono le nostre possibilità le nostre competenze a questa nostra regione che ripetiamo è una regione che vive una fase di grande grandissima difficoltà ma che presenta notevoli opportunità io mi ripeto noi abbiamo a disposizione risorse per oltre 10 miliardi di euro da qui al 2020 dobbiamo evitare quello che si è fatto nel passato quando purtroppo molti di questi fondi sono ritornati a Roma o a Bruxelles li dobbiamo tenere qui in Calabria utilizzarli efficacemente per rendere strutturale la ripresa e secondo noi tutto questo è possibile in questa direzione noi stiamo continuando ad impegnarci il governo regionale deve fare la sua parte è tutto grazie per essere stati con noi vi auguro come sempre un buon proseguimento grazie per la visione cerca Tele Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app Tele Europa Network ti segue ovunque disponibile per tutti gli utenti Android e Apple ti aspettiamo un buon proseguimento e un buon proseguimento